Sì, Sabrina, già puoi cominciare. Tu puoi cominciare, Sabrina. D'accordo. Di cui, in fatto, all'alto di tre settimane, ho stato operato in un'ernia all'overa con un'inizio di pneumonia a 23 mesi. Sono stata operata alle ovaie a tre settimane e un inizio di pneumo... Non mi ricordo come si dice. Da tre settimane, dice? A tre settimane della naissance, tu hai operato alle ovaie? Sì. Un'ernia all'overa. Un'ernia alle ovaie. Vas-y, continui. Vers l'âge di due anni, je faisais beaucoup de cauchemars e, du coup, je ne voulais plus dormir seule dans ma chambre. A l'età di due anni, facevo molti incubi e quindi non volevo più dormire da sola in camera mia. Adesso non li fai più? Maintenant, tu ne fai plus de cauchemars? Non. Non, je ne fai plus. Oui, non, je ne fai plus il n'y a pas longtemps, là. Ne ho fatti non molto tempo fa, ma... Vabbè. Je ne crie plus la nuit. Non crie plus la notte. Ensuite, jusqu'à l'âge di 10 ans, j'ai vécu une vie normale de petite fille et à l'âge de 10 ans, j'ai eu un cancer au niveau du cerveau, j'ai eu une tumeur et je me suis retrouvée presque aveugle. Fino all'età de 10 ans, j'ai eu un cancer au cerveau et j'ai eu un cancer au cerveau et j'ai eu un cancer au cerveau et je me suis retrouvée à quasi cieca. Sono stato operata, poi, a seguito dell'operazione, ho avuto due meningite post-operatorie e ho perso l'equilibrio, la parola e la possibilità di camminare. A seguito di rieducazione, ho ricominciato a avere una vita corretta, ho ripreso la parola e a camminare. A seguito di questa malattia, mi sono ritrovata isolata e ho perso tutti i miei amici dell'infanzia che si sono spaventati dal mio stato di malattia. Oggi vado meglio, ma ho paura a livello economico perché non ho grandi entrate, sono sola, non ho amicizie e non ho un ragazzo. e sto subendo dello stalking o del mobbing a livello di lavoro. Je ne parviens pas à m'émanciper de ce statut d'adulte handicapé alors que j'aimerais en sortir. J'ai une relation de soumission avec mon père et mes relations amoureux sont toxiques. J'ai le sentiment que tout se passe pour que je sois isolée et soumise depuis cette maladie. Depuis plusieurs mois, j'ai des acufènes et une perte importante d'audition qui m'isola et me renferme sur moi-même. J'ai deux. J'ai des difficultés à communiquer avec les autres parce que je n'entends pas très bien et je comprends pas tout ce qu'on me dit. J'ai des difficultés à communiquer avec les autres parce que je n'entends pas très bien et ils ne pensent pas tout ce que je dis. Pendant longtemps j'ai crié, j'ai cherché la lumière en fait dans la nuit et j'ai cherché la porte de sortie, j'ai crié à l'aide. Pendant longtemps j'ai eu très peur parce que j'ai vu des yeux noirs qui me regardaient et dans la nuit, c'était dans la nuit en milieu de nuit vers 3 heures du matin. je me suis réveillée, j'ai vu des yeux noirs et en fait j'ai pris peur et je me suis cachée sous la couette. Pendant longtemps j'ai eu avuto un spavent pendant la nuit, vers les 3 heures du matin j'ai vu des yeux noirs qui me regardaient, donc j'ai eu peur et je me suis nascosta sous la couperte. Par ailleurs j'ai régulièrement des boutons sur les mains qui sont très douloureux, de la dyshydrose. et je suis très fatigable. J'ai appris à la dyshydrose. J'ai appris à peindre et j'ai des difficultés à me faire confiance et à créer, j'ai l'impression que ma créativité est blocchée. J'ai commencé à peindre mais j'ai difficulté à faire confiance aux mes capacités et à développer. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. più giù Adesso facciamo prima degli esercizi e durante gli esercizi ti spiego come li devi fare e durante gli esercizi Ora, per cominciare per fare il primo esercizio devi andare a un ricordo oppure a un sogno Ora, per cominciare e fare il tutto primo esercizio devi andare in un rêve o in un souvenir Scegli un ricordo o un sogno Hai scelto un ricordo o un sogno Qu'est ce che tu as choisi un souvenir o un rêve Sabrina Qu'est ce che tu as choisi tu as choisi un souvenir o un rêve Non c'è l'un non c'è l'autre Non c'è l'un Non c'è lui C'è lui D'accord Più che un sogno Andiamo a quel momento in cui hai visto quegli occhi neri On va au moment dans lequel tu as vu les yeux noirs D'accord Adesso ti faccio delle domande tu mi rispondi al presente come se stesse succedendo adesso Maintenant Je vais te poser des questions et toi tu me reponds au présent comme si tout ça se passe maintenant E giorno o notte C'è giorno o notte C'è giorno o notte La nuit Non c'è Que ore sono C'è quelle heure 3h du matin Et 3h del mattino E tu In quale posizione stai dormendo Toi Dans quelle position t'es en train de dormir Allongé D'estesa E una notte calda o fredda C'è un nuit chaude o froide Ah Qua niente è uguale So Non importa Si l'ha même chose Si l'ha même chose Ma ha detto calda comunque Ah calda Ok Bene E adesso dimmi Questi occhi che appaiono In quale punto della stanza appaiono? E ora dis-moi, le occhi che tu vois, da quel punto della pièce, ii vanno apparaire? A destra, a sinistra, in alto, in basso? A droite, a gauche, in haut, in basso? Où vois-tu le occhi? In alto. Questi occhi sono grandi o piccoli? Questi occhi sono grandi o piccoli? Grandi. E quelle forme hanno? Quelle forme? Quelle forme hanno? Quelle forme hanno? Quelle forme hanno? Quelle forme hanno? Ovale. 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 E di che colore sono? E di quelle colore sono? Noire. Neri. E come è il naso? E le nez? Come il è, son nez? Piccolo o grande? C'è un nez petit ou un nez grand? Grand. Grande. E la bocca? E sa bouche? È piccola o grande? Il ha un bucho petite, un grande bucho? Io non ne so ne no conne di nez. Non buti la bocca. E le orecchie? E le orecchie? E le orecchie? Le orecchie? Grandi. E che formano le orecchie? Che formano le orecchie? Che formano le orecchie? Le orecchie? Le orecchie? La faccia ti fa pensare a un animale, a un uomo o a cosa? Son visage, il te fa pensare a un animal, a un être humain o a quoi? Un extraterrestre Un extraterrestre E di che coloro è la pelle? E la peau, sa peau, c'è di quelle couleur sa peau? Non, non la vedo Allora facciamo così Al mio tre si accende la luce nella stanza così tu puoi vedere tutta la sua forma e i sui colori On fait comme ça, un monte 3 C'est une lumière dans ta pièce et tu peux voir toute sa forme et ses couleurs Un, due, trois Si accessa la luce La lumière s'est allumée Dimmi, di che coloro è la pelle? Dis-moi, c'è di quelle couleur sa peau? Chiara o scura? C'è clara o foncée? Non, j'arrive pas a voir Non riesco a vedere E' alto o basso? Il est grand o petit? E' più alto di te o più basso di te? Il est plus grand que toi o plus petit que toi? Plus grand Tu hai paura? Est-ce que tu as peur? Oui Ok Non lo vedi bene per la paura? Tu ne le vois ben, bien, parce que tu as peur Adesso la eliminiamo anche un po' Maintenant, on va l'éliminer un po' Dimmi, in quale parte del corpo sta la paura? Dis-moi, dans quelle partie de ton corps tu ressens la peur? Dans tout mon corps? In tutto il corpo In tutto il corpo? Bene, allora Prendi tutta la paura nel corpo E la concentri nel ventre Tu dois prendre toute la peur Qui tu as dans ton corps Tu dois la concentrer A l'intérieur de ton ventre Bene Quando hai fatto una palla Nel ventre, dimmelo Quando hai fatto una palla Dans ton ventre Tu peux me le dire Bene Bata la palla T'as fatto la palla? Oui Bene Adesso, prendi-la E butta la via de la finestra Maintenant, tu dois prendre cette boule E tu dois la jeter Dehors de la fenêtre Un, due, trois Fais bene Bravo E adesso che hai buttato via la palla Come ti senti? E maintenant Qui t'a jeté cette boule Comment tu te sens? Mieux Alza un po' il microfono Verso la bocca Sabrina Est-ce que tu peux Monter le micro Vers ta bouche Un petit peu Sabrina Ok Merci Merci Quindi non hai più paura Justo? Du coup t'as plus peur C'est ça? Oui Bene Adesso che non hai più paura Puoi vedere bene Questo extraterrestre Maintenant Tu n'as plus peur E tu peux Bien voir Cet extraterrestre Di che colore è? C'est de quelle couleur? Non Je ne vois pas Chiede-gli Come si chiama Il demande lui son nom Cosa ti dice? Qu'est-ce qu'il répond? Va bene Allora intanto Dimmi che cosa fa Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Sapo-quina Che fa? Qu'est-ce qu'il fait? Je n'arrive pas à savoir Non riesco a saperlo Non riesco a saperlo Beh, rimane lì fermo E resta là? Il bouche pas? Non, il me regarde C'est tout Mi guarda C'est tout E quindi rimane fermo là Et du coup il reste là Il bouche pas? Non Non? E allora cosa fa? E alors qu'est-ce qu'il fait? Va bene Allora facciamo così Adesso stai attenta Perché lavoro un po' Con Elia Però poi Ritorno a farti delle domande On fait comme ça Là je vais travailler avec Elia Mais tu dois rester attentif Parce qu'après Je reviens A poser des questions A toi aussi Quindi Tutto quello Che io dico con Elia Tu visualizzalo Tout ce que je dis Avec Elia Tu dois le visualiser Bene Ok Elia Intanto dimmi Cosa stai vedendo Deja dis-moi Qu'est-ce que tu es En train de voir Un reptiliano Quoi? Un reptiliano Un reptiliano Et qu'est-ce qu'il fait Ce reptiliano All'intérieur De sa pièce Il est au-dessus Comme une ombre Comme les monstres Avec les enfants Il se veut menaçant Et au-dessus Par de lui Comme les monstres Con les bambines Minacciosis Et qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie De nourrir Une peur En elle De lui faire peur Cerca De nourrir Una paura En elle Et faire la paura Va bene Intanto andiamo D'un'altra parte Qui ci torniamo Dopo On va Dans un autre endroit Et on reviendra Après ici Adesso Lasciame Elia Con la parte subliminale Di Sabrina Maintenant Elia Tu dois me laisser Avec la partie subliminale De Sabrina Per non confondre La con la parte physique La chiamerò Sab Je vais l'appeler Sab Pour ne pas la confondre Avec sa partie physique Sab La parte subliminale Sabrina La partie physique Ok Sabrina Ça sera la partie subliminale Et Sabrina Ça sera la partie physique C'est ok Sabrina Oui Lâche-moi con Sab Laisse-moi avec Sab Sab Oui Comment ça va Je ne sais pas Comment je vais J'ai peur Non so Comment si t'avais paura Dove ti trovi Où te trouves-tu Dans ma chambre In camera mia Perché hai paura Pourquoi as-tu peur Parce qu'il va A me faire des choses Dans mon corps Perché farà Delle cose Nel mio corpo Ma qui Questo qui Que l'abbiamo visto Prima Questo qui N'autostanza Mais qui Celui-là Qui l'est Dans ta pièce Oui Celui-là Ou les autres Sont Différents Questo Ou l'altro Sont Diversi Ma qui Ma questi Questi Stupidi Mais qui C'est Bête Là Oui Ma questi Non fanno Niente Sono Solo Stupidi Mais Ils font Rien Ils Sont Just Bête Qui Sont Escappano Comme Le Formig Ils Sont Très Intelligents Parce Qu'ils M'ont Capturé Et Ils Font Des Choses Avec Mon Corp Sono Molto Intelligenti Perché Mi Hanno Capturato Fanno De Le Cose Con Il Mio Corp Va Ben Che Cosa Sono Facendo Adesso Nel Tu Corpo Il Mette Des Util Des Chose Che Fanno Mal Mettono Gli Strumenti Delle Cose Che Fanno Male E Dove Li Mettono E U Est Che Il Mette Sette Util Partù E Poi Après Il Retire E Fanno D'autres Chose E Remette Des Chose Dappertutto Poi Li Tolgono E Fanno Altre Cose Rimette Altre Cose Quanti Sono Son Combien Il Son Nombre Il S' Enchèna A Chaque Foi Il Son Tu Selle Ma C'est Jamais Il Meme Sono Molti Si Mettono Uno Dopo L'altro Ogni Volta È Diverso Non È Mai Lo Stesso E Chi È Il Capo E C'è Chi L'or Chef Je Sè Pas Non So Appelle Le Chef Che È Arrivato C'è Chi Chi È Un Monstro Très Grand Glorio È Un Mostro Molto Grande Globuloso Assomiglia A Qualche Animale È Sì Un Crocodile Sì Un Coccodrillo Tu Come Lo Vedi Sabrina E Sabrina Comment Lo Vois Tu Questo Coccodrillo Alle Ali Sabrina Sabrina Est-ce Que Le Crocodile A Des Ailes Non A La Coda A T'il Un Co Je Vois Pas De Crocodile Non Vais De Crocodile Et Que Cosa Vedi Et Que Vois Tu Rien Ok Sab Oui Parler Un Attimo Con Cocodrillo Que Poi Facciamo L'altra Cosa Laisse Moi Parler Un Est Avec Le Cocodrillo Et Après On Va Faire Une Autre Chose Salut Cocodrillo Cocodrillo J'écoute Ascolt Come Ti Chiami Comment T'appelles Tu Ce N'a Pas N'importance Non N'a Importance Et Dimelo Lo Stesso Et Dis Moi La Meme C For G For G Fog G Vuol dire Nebbioso Ok Foggy D'où Vieni Foggy D'où Tu Viens Foggy De Chez Moi Pas A Mie Si Si Et Où Est A Casa Tua Et Où Se Trouve Chez Toi En Dessous Chez Toi De Sopra De Casa Tua Bien Commençons Con Les Rispostes Idiotes Et Dove Est A Casa Mia Maintenant On Commence Avec Réponse Et Où Se Trouve Chez M Sur La Certo Va Bene Ok Grazie Per L'information Bien Merci Pour Les Informations Adesso Torno Maintenant Je Reviens Lassame Con Sab Laisse M'avec Sab 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 Oui Adesso Andiamo D'altra Part Maintenant On Va Dans Un Autre Endroit Facciamo Un Giro Largo On Va Faire Un Tour Plus Large Adesso Je Conte Da Uno Tre Et Al Tre Siamo La Causa Esotérica Del Tumore Al Cervelo Maintenant Je compte De Un A Trois Et A Trois On Va A La Cause Esotérique Du Cancer A Ton Cerveau Un Du Trois Je Veux Pas Être Là Non Voy Le Cerly Dime Dime Où Tu Te Trouve Tout Dans Le Laboratoire Il Ce Des Expériences Sur Ma Tête Ils L'ont Ouverte En Deux Et Ils On Oblié De Couper Ma Conscience Je Voix Tout Et Je Sens Tout In Un Laboratorio Stanno Facendo Delle Analisi Sulla Mia Testa L'hanno Aperta In Due Hanno Dimenticato Di Tagliare Fuori La Mia Coscienza Vedo Tut E Sento Tut Et Qui 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 Facendo L'opération Et Qui Est Il Capo De L'opération C'est Qui Est Le Chef De Cette Opération C'est Le Docteur Et Docteur Il Docteur Vu Dire Que Un Humano Tu Vu Dire C'est Un Humain Oui Il A Coupé Ma Tête En Deux Et Su Comment Dire Sui Collaboratori Sono Humani Mais Tocca Così Al Toccarli Dibé In La Forme Originelle Tocche Les Comme Ça Quand Tu Les Touches Tu Pe Voir Le Forme Originelle Dis Moi Sont Ils Humain Non Et Que Forme Ils Ont Sont Tous Des Monstres Assumil A Quelques Animale Est Ce Qu'il Ressemble A Quelques Animales Oui Un Serpent Serpent Ok Altri Reptiloïdes Des Autres Reptiloïdes Facciamo Una Cosa Sab Mentre Tu S'es Lì In Questo Laboratorio Dove Stai Il Tuo Corpo Fisico Pendant Que T'es Là Su Laboratoire Où Se Trouve Ton Cor Fisico Dans L'hôpital N' Ospedale E Perché S'es N' Ospedale Cosa Fai Cosa Fai E Pourquoi Es Tu Dans L'hôpital Qu'est Ce Fais Tu Là Parce Que C'est Papa Maman Qui M'ho Fermé Là Bà Perché Maman Papà Mi Hanno Chiuso Lì Cosa Ti Fanno In Ospedale Ce Ch'il Fon L'hôpital Il M'ho Envoyé Là Bà Parce Qu'il Croyé Pas Tout Ce Je Voi Hanno Inviato Lì Credevano A Tut Ce Vedevo Ripeti Scusa Mi Ti Chiami E To Comment T'appel Tu Emma Quanti anni Hai Emma Quinze Quindici Anni Che Anno È Emma On È Dan Quelle Anni 1922 1922 In Quale Paese Vivi Dan Quel Pays Abit Tu France France Allora Facciamo Una Cosa Vai Indietro Nel Tempo Prima Che Tu Entres In Quest Ospedale On Remonte Le Temps Avant Que Tu Rentre Là An Cet Hôpital Quanti Anni Hai Quel Agence Tu Quatorze 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 Anni Tu Vedi Qualcosa Que Tu Genitori Non Credano Que Tu Veda Est Ce Que Tu Vois Quel Chose Qui Tes Parrain Ne Croix Pas Que Tu Vois Oui Et Cosa Vidi Et Que Vois Tu C'est L'impression Que C'est Comme S'il Y Ave Des Poissons Partout Autour De Nous Et Tous Les Poissons Viennent Me Voire Il Me Demande De L'aide Et Tut I Pe Tu Vengono A Vedermi I Tu Hai Raccontato Questo I Tu Genitori T'Hanno Portato In Ospedale Et To T'Has Racconté Sa A Tes Parrain E Il T'H M' Ramené All'hôpital No Il M'hanno All'hôpital Parce Que J'ai Fé Une Crise J'ai Crié J'ai Crié Parce Que Je Vole Être Toute Se J'en Ave Mar Come Demande De L'aide No Mi Hanno Portato In L'ospedale Perché Ho Fato Una Crise Gridavo Perché N'avevo Abbastanza Che Tutti Mi Chiedessero Aiuto Ok I Pesci Venivano Chiederti Aiuto C'erano Poisson Che Venivano Te Domanda D'Aide Ma Erano Solo Pesci Il Ave Que De Poisson Non Il Ave D'autres Chose Ma La Pe Part Du Tempo C'erano De Poisson Le Autre Chose C'erano De Petite Limace No C'erano Anche Altre Cose La Part Del Tempo Erano De Pesci Ma Le Altre Piccole Ok Alla Facciamo Una Cosa Mai In Un Momento In Cui Vedi Pesci Lumache Ok On Fais Une Chose Tu Dois Aller Dans Un Moment Dans Le Que Tu Vois Les Voix Et Les Limaces Quanti Ne Vedi Combien Tu En Voix De Centenaire Centenaire Toccan Quelquuno Et Dimmi Que Forme Prend Tu Prend Quelqu'un Parmi Et Tu Me Diz Que De Fantôme Fantasme Ok Adesso Togli Lenzuole Fantasme Et Dimmi Qui C'est Sotto Maintenant Tu Pu Enlever Le Drap De Fantôme Tu Pu Me Dire Qui Il A Au Dess Du Drap Ce Des Humains Sans Drap Ce De Fantôme Humain Sono De Humani Sono De Fantasme Humani Ok E Quest Humani Hanno Un Corpo Sulla Terra E Cet Humain Est Fammi Parlare Con Uno Di Loro Fais Moi Parler Avec Un Parmi Eu Come Ti Chiami Comment T'appelles Tu Sui Dove Sono Tu Dimmi Come Ti Chiami To Di Moi Comment T'appelles Michel Michel Perché Hai La Forme Di Peixe E Pourquoi Tu La Forme D'un Poisson Je Pas Poisson Non Sono Peixe E Perché Hai La Forme Di Un Peixe Et Pourquoi As-tu La Forme D'un Poisson Mais J'ai Pas Cette Forme Là Non Que Sa Forme Et Que Forme As-tu J'ai Forme Humaine Je Un Corp Et Que Vois Tu D Emma Je Veux Qu'elle M'explique Où Je Parce Je Je Riconne Plus Che Moi Mais C'est Che Moi Quand MÈ Perché Lei È A Casa Mia Cioè È A Casa Sua Perché Io Non Riconosco Più Casa Mia Ma È Sempre Casa Mia Te Lo Spiego Io Ok Je Te Parce Que Le Soleil N'est Pas Mort C'est Toi Qui Est Mort Tu Sei Viva Ma Senza El Corpo Physico Tu Es Vivante Mais Sans Le Corp Physico Tu Capito Adesso T'as Compris Maintenant Oui Ça Fait Sens C'est Logique Si Fa Senza Mais Logico Ha Visto Que Tu Pui Volare Pui Nare Dove Voi In Un Attimo Questo E Il Vantaggio Di Non Avere Il Corpo Physico As Tu Vue Tu Peu Voler Tu Peu Aller Où Tu Ves Ça C'est L'avantage De Pas Avoir Un Corp Physique Maintenant Laisse Moi Avec La Limace Limace Comment T'appelles Tu Quatre Quatre Pourquoi As Tu La Forme D'un Limace Ce n'est Pas La Réponse Non La Risposta Va Bene Lasciami Con Emma Laisse Moi Avec Emma Emma Oui Ok Hai Visto Sono Tutti Uomini Meglio Tutti Essere Umani Che Sono Morti Sono Disincarnati Ti As Vu Ils Sont Tous Des Etres Humains Mort Désincarnés Adesso Dammi Soltanto La Risposta Che Terrible Mente Senza Pensarci Dimmi Perché Li Vedi Con Forme Di Pesci Et Lumage Maintenant Donne-moi La Réponse Qui T'arrive A L'esprit Sans Réfléchir Et Dis-moi Pourquoi Tu Le Vois Avec Des Formes De Limaces Et Des Poissons Pour Pouvoir En Parler Sans Inquiéter La Masse Ça 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 va De Semblance De Semblance C'est Seulement Toi Qui Les Voix Ok Comunque Tu Non Ce La Fai Plus A Vederli A Sentirli Comincia A Gridare Et Tue Genitori Pensano Que Tu Sia Passa Ti Porto In Ospedale Justo Du Co La Fin Toi Tu Un Peu Plus De Voir Ça Tu Commences A Crier Tes Parrain Ils Pensent Que T'es Fou Foll Et T'amène A L'hôpital C'est Ça Ok Alors Andiamo In Ospedale Ok Alors On Va A L'hôpital Sabrina Questo Ospedale Com'è Grande O Piccolo Sabrina L'hôpital Com'il Il Est Grand Ou Petit Osserva Emma In Quale Estanza Est T'amessa Observe Emma Dans Quelle Piez Elle A Et Mise En Una Estanza Da Sola O Con Altri Pazienti Elle Est In Une Chambre Toute Seule O Il Y A De Autopatient Aussi Dans Une Chambre Toute Seule Il En A C Ok Dimmi S'ils S'ils Vont L'opera S'ils Vont L'opera Tu mi dici quel genre d'opération ils vont faire sur elle ? In quale parte del corpo ? Dans quelle partie de son corps ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Emma ? Oui ? Tu dois aller au moment dans lequel ils vont t'opérer. L'opération la fanno lì, dans l'ospedale, ou t'y portent d'un autre part ? L'opération, ils vont la faire dans le même hôpital et ils vont t'emmener ailleurs. C'est dans le même endroit, mais dans un bâtiment différent. Et dans le même endroit, mais dans un bâtiment différent. Ok. Mentre tu vas opérer, où est ton corps physique ? Pendant qu'ils sont en train d'opérer, où se trouve ton corps physique ? Dans le bain. Dans le bain. Dans le bain ? Que fais-tu dans le bain ? C'est trop froid. Des heures entier dedans ? C'est trop froid. D'aine l'hôrent, il vomit dans le dessus. C'est trop froid ? Il ton enfermé dans le bain ? Oui. Perché ti hanno chiuso in bagno? E perché ti hanno fermato nel bain? Fanno questo tutti i giorni a tutti quanti. Quindi tu sei rinchiusa nel bagno e nel frattempo loro fanno un'operazione su di te da un'altra parte, giusto? Du coup, tu ti hanno fermato nel bain e entretanto, loro fanno un'operazione su te stesso, ailleurs, c'è ça? E tu dimmi, da quale parte del tuo corpo fisico sei uscita per andare in quella stanza, in quella sala operatoria? E tu, dimmi, da quale parte del tuo corpo fisico ti è sorti per andare nel PDS dove sono stati operando? La testa. Testa. È venuto a prenderti qualcuno o sei andata lì da sola? Est-ce qu'il y a qualcuno che è venuto te prendere o ti è allata tutta sola? Non, sì, sono venuto a prenderlo. Ok. Bene, adesso andiamo al momento dell'operazione. Maintenant, un buon momento dell'operazione. Lasciami con il capo. Laisse-moi avec leur chef. Le chef? E chi era quello di prima, no? Era un dottore. Chef. Come avevi detto che ti chiami? Comment t'avais dit di t'appeler? Foghi. Ah, Foghi, ok. Foghi, cosa stai facendo su Emma? Qu'est-ce che tu es en train de faire su Emma? Tes programmi. Tes programmi. Bene, e quali programmi stai installando? E quel programmi tu es en train d'installer? La soumission, la folie, la peur, qu'elle reste petite fille. Soutumissione, folia, paura, qu'eres ti bambina. Ok. E perché la stai programmando in questa maniera? E perché es-tu en train de la programmer in questa maniera? Pour que les humains la regettent, e pour qu'elle s'offre pleinement a nous. Perché gli umani la regettino, e che lei si offre pienamente a noi. Ok. E una volta che lei si sarà offerta completamente a voi, voi cosa farete con lei? E un fois qu'elle va vous offrir directement a vous, qu'est-ce que vous allez faire avec elle? L'implanter. Impiantarla. Avec notre semence. Impiantarla con il nostro seme. Créer une armée. E créare un'armata. Ok. Quindi volete utilizzarla come fonte genetica, giusto? Vous voulez l'utiliser comme source genetique, c'est ça? C'est intelligent, c'est bien. C'est intelligente. No, non sono intelligente. È che queste cose, di queste cose ne ho viste e sentite a migliaia. C'est pas che io sono intelligente, perché questo genere di cose, io le ho viste e ho viste e ho entendo. Di milliere. E voi sapere come sono finite tutte? E tu vuoi sapere come sono finite tutte? Tu mi parles dei altri, io n'en ho rien a fare. Tu mi parles degli altri, non mi interessa. È dovrebbe interessarti invece. Ça doit t'intéresser, au contraire. Perché ci finirai pour le tour? Parce che tu vas fare la même faim. Ok. Lassame con Emma. Laisse-moi avec Emma. Emma. Vai al momento in cui muori. Tu dois aller al momento in cui tu meurs. Quanti anni hai? T'as quel âge? 19 anni. 19 anni. Di cosa muori? E tu mors di cosa? Je ne sais pas, il y a eu dei chocs dans la mia tête. Non lo so, tu sensati dei dei chocs nella mia testa. Ok. E una volta morta e fuori dal corpo, cosa vedi, cosa fai? E una volta morta e fuori dal corpo, cosa vedi, cosa fai? E tu fai dehors de ton corpo, que fai e che voi? Je vois tutta l'horreur qui è enfermata dans ces murs. Ce n'est pas seulement les humains qui nous torturent, c'est toutes les autres choses. Vedo tutto l'horreur che è chiuso in queste mura. Non sono soltanto gli esseri umani a torturarci, ma ci sono altre cose. Ok, dimmi se ti reincarni. E dimmi se tu vas te reincarner. Oh, oui. Bene. Quale sarà la tua prossima vita? Quelle va être la prossima vita? C'est flou, c'est pas clair, rien n'est pré-definé. C'est un corps de femme. E... E' offuscato, non è chiaro, niente è definito, è un corpo da donna. J'ai pas choisi le corps, c'est eux qui m'ont dit d'aller a ce corps là. Non ho scelto il corpo, sono loro che mi hanno detto di andare in questo corpo. E y'avait un problema, le corps était trop petit. Quand j'étais dedans, le corps était trop petit. E c'era un problema, il corpo era trop piccolo. Quand j'étais dentro, il corpo era trop piccolo. Bene. E adesso, osserva dove sei nel momento in cui io ti sto parlando. E maintenant, osserva où te trouves-tu dans le moment dans lequel je te parle. Sono dans une boîte. Sono dans une scatola. E come ti chiamo? E comment t'appelles-tu? Sabrina. Ok. Sabrina, cominciamo a lavorare. Sabrina, on commence a travailler. Au meglio, sab. Au mieux, sab. Perché se dico Sabrina, mi risponde la tua parte rationale, fisica. Parce que si je dis Sabrina, va me répondre ta parte rationale, fisica. Ma è la stessa cosa. Mais c'est la même chose. Sabrina, sab, emma, è la stessa cosa. C'est la même chose. Sabrina, sab, emma, c'est la même chose. Ok. La situation, ça semble lourde, mais c'est simple et on peut la résoudre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Maintenant, lui, il se trouve en face a toi. Dis-lui di mettersi in ginocchio. Dis-lui di se mettere en genù. Quando lo vedi in ginocchio davanti a te, dimmelo. Quando tu lo vedi in ginocchio davanti a te, dimmelo. Si è inginocchiato già, Sabrina? Il s'est mis déjà en genù en face a toi, Sabrina? Il s'est mis en genù en face a toi, Sabrina? Oui. Lo vedi in ginocchio davanti a te? Le vois-tu en genù en face a toi? Non. Avais-tu dit aussi prima? Mais tu avais dit oui avant. Lo vedi? Je ne la vois pas. Non, lui, non. Allora, torna al momento in cui lo vedi. Reviens au moment dans lequel tu le vois. È inginocchio? È-t-il en genù? Vabbè. Sabe? Oui. Tu, in una vita, passata nella vita di Emma, avevi un grandissimo privilégio. Toi, dans ce passato, dans la vita di Emma, avevi un grandissimo privilégio. C'était quoi? E cosa era? La mediumnità o la medianità. Tu potevi interagire con la dimension eterica. E soltanto pochissimi esseri umani hanno questa capacità. Solamente che purtroppo hai vissuto in un ambiente ignorante e pieno di paure. Che non hanno compreso il mondo che vedevi e ti hanno rinchiuso tutta paura e ignoranza. Questi ospedali cosiddetti psichiatrici oggi, ma una volta si chiamavano manicomi, sono come dei punti di raccolta, adesso vi spiego. Perché la gente viene isolata, viene legata, questo provoca uno stress acuto, per cui è facile trovarsi in certe condizioni particolari. Perché la gente viene isolata, e questo può creare delle condizioni per le quali... Ora, ti ricordi quando ti avevano chiuso nel bagno? Tu te rappelles quando ti avevano chiuso nel bagno? Oui. Come ti senti? Come ti senti? J'avais peur, io me senti humiliata, incomprisa. E adesso, dimmi chi è venuto a visitarti attratto da questa paura e da questo senso di umiliazione. Ebbene, ora dimmi, chi è venuto a vedere attirare per questa paura e senso di umiliazione? A questo dottore che ho visto. Questo dottore che tu hai visto, ti sembra un dottore dell'ospedale? Ma non è un dottore dell'ospedale. Ce dottore che ti ha visto, ti sembra un medizino dell'ospedale, ma non è un medizino dell'ospedale. È un dottore che vedi solo tu? C'è un medizino che tu vuoi solo tu? O forse qualcuno. Non vedo la differenza. Non vedo la differenza. Tu no, tu non l'avedi perché nessuno ti ha mai spiegato delle cose. E quindi per te era tutta un'unica dimensione. Toi no, tu ne la voyais pas perché personne ne t'ha bien expliqué le cose. Du coup, per toi c'était tutta un'unica dimensione. Però i tuoi genitori non li vedevano. Ma i tuoi genitori non li vedevano. Forse qualcuno nell'ospedale, rinchiuso come te, sì, ma la maggioranza, no. Peut-être qualcuno all'interior dell'ospedale, enfermé come te, sì, ma la plupart non. Quindi, tu sei andata con loro perché pensavi che fossero i dottori dell'ospedale. Du coup, tu sei allato con loro perché tu pensavi che fossero i dottori dell'ospedale. Che ti avrebbero curata e non ti avrebbero più dato fastidio ai pesci e le lumache. Qu'ils t'havrè curé, soigné, e les limaces e les poissons, ils t'havrèm plus donné du danger. Però loro sono i dottori invisibili. Ma eux, ils sont les médecins invisibili. E se ne sono approfittati. E ils ont profité de ça. Perché ti hanno impiantata con dei dispositivi tecnologici. Perché ils t'havrèm plus donné du dispositivi tecnologici. Che non esistono in Francia nel 1922. Che n'existe pas en Francia nel 1922. Ma sono strumenti molto potenti. Mais sono des utils très puissantes. Che fanno di te una persona sottomessa, obbediente. Che fanno di te quelqu'un de soumise e obbeissante. E tu sei stata la loro prigioniera per tanto tempo. E toi, tu as été leur prigioniera per plusieurs temps. Da viva e da morte. De vivante e de morte. E dimmi, hai partorito pure de figli? E dis-moi, est-ce que t'ha accouché aussi des enfants? Non. Va bien. Quello que t'hanno fatto, lo hai somatizzato pure nella vita fisica, da dove io ti sto parlando. Ce qu'ils t'hont fait, tu l'has somatisé dans ta vie physique, depuis laquelle je te parle. Perché il tuo cervello ha somatizzato questi impianti, questi programmi e ha generato un tumore. Parce que ton cerveau a somatisé cet implant e l'ha creé un tumeur. La programmazione di sottomissione, tra l'altro, ha continuato a funzionare con tuo padre. La programmazione di sottomissione ha continuato a funzionare e tutto il resto è una conseguenza. E tutto il resto è una conseguenza. Ora, dimenti, tu vuoi risolvere questa situazione, annullarla, modificarla completamente, fare in modo che non sia mai esistita? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu veux risolvere questa situazione, l'annuller, la modifier, finalement, pour ne pas faire en sorte qu'il n'a jamais existito? Oui. Et je ne veux plus jamais voir quoi que ce soit. e non voglio mai più vedere niente. Bene. Allora, possiamo fare il lavoro in qualsiasi punto della linea temporale? On può fare il lavoro in n'importe quel point della linea temporale. Perché quando cambia volontà, quando cambia decisione, questa si propaga su tutta la linea temporale, su tutta la tua assistenza. Parce que quando tu changes volontà e quando tu changes decision, ça se va propager su tutta la linea temporale. Cheglie tu dove farla, nel passato, nel presente, o addirittura nel futuro. Tu puoi choisire où tu veux le faire, dans le passé, dans le présent, o même dans le futur. Je veux le faire dans le présent. Volevo le faire dans le presente. Perfetto. Allora. Adesso, chiama gli esseri che in qualche maniera sono nel tuo, gli esseri che sanno nel tuo spazio. Li voglio tutti davanti a te. Now, tu devi appellare tutti gli esseri che, in qualche modo, sono a l'interno del tuo spazio. come vedi questi quattro? Sabrina, dis-moi, comment vois-tu le quattro? guarda il capo. Regarde le chef. E' più alto o più basso di te? Est-ce qu'il est plus grand o plus petit que toi? Sab? Oui. Questi esseri stanno nel tuo spazio perché tu gli hai dato, hai dato loro un permesso. Ces êtres, ils sont all'interno de ton espace perché tu gli hai donné la permission. Senza il tuo permesso non potrebbero starci. Senza il tuo permesso non potrebbero starci. Perché tu sei potere. Perché tu sei potere. Il tuo spazio sei tu, sei potere. Ton espace è tu, tu hai potere. Solamente che questi esseri sono molto furbi che questi esseri sono molto mali. Se come sanno che tu sei potere, quando stanno nel tuo spazio possono starci solamente se riescono a manipularlo. Vu qu'ils sono al corso del fatto che tu hai il tuo potere, per restare in tuo spazio non potrebbero che te manipulare. E sai come lo manipulano? usano il tuo stesso il tuo potere contro te. Il utilizza ton proprio il tuo potere contro e a favore loro. A loro faveur. Perché loro ti fanno credere delle cose. Perché te fanno croire e tu essendo potere tutto quello in cui credi lo crei. E tu vuoi che il tuo potere tutto il tuo in cui tu credi lo crei. E il gioco è fatto. E il gioco si è fatto. E questo succede perché reincarnazione dopo reincarnazione non ricordi di essere potere e oggi tu hai scoperto di essere potere perché te l'ho ricordato. E oggi toi tu viens di découvrir il tuo pouvoir perché ti rappelavo di questo. infatti infatti adesso che sai che loro possono solamente obbedirti stando nel tuo spazio gli dai l'ordine di mettersi in ginocchio davanti a te. In effetti che tu sono obbedire perché sono nel tuo espace tu gli doni l'ordine di se mettere un genou in face a toi. Quando li vedi in ginocchio dimmi la. tu puoi me dire sì ha funzionato perfetto poi loro ti hanno fatto credere che sono più forti di te e invece no sei tu onnipotente quindi hai generato paure le paure ti fanno vedere gli altri più forti e la peure fa in sorte che le altri più forti e buttere tutta questa paura è solo una tua creazione quando ti non hai più paura di me le dire Non riesco a liberarmene del tutto perché nei loro sguardi mi ricordo di tutte le sofferenze che ci hanno fatto subire. Vedi? Stanno ancora utilizzando il tuo potere contro te. Tu vois? E sono ancora in train d'utilizzare il tuo proprio pouvoir contro tu stesso. Tu hai ragione. Tu adesso distruggi tutto. Adesso ci sincronizziamo. Quando io dico tre, tu distruggi tutto. Quando distruggi tutto, stai eliminando e revocando tutti i permessi che hai dato una volta per farli stare nel tuo spazio. E quindi non avendo più questi permessi non possono più starci e scompaiono. E non esistono più. E non esistono più. Bene, sei pronta per distruggire tutto. E tu prates per tutto distruggire? Bene. Bene, al mio tre non esiste più niente. A mon tre, rien n'existe più. Un, due, tre. Cosa vuoi di Sab? Che vuoi di Sab? Cosa vuoi di Sab? Cosa vuoi di Sab? Cosa vuoi di Sab? Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3? J'ai enlevé toutes mes peurs. Olevato tutte le mie paura. E come ti senti adesso? E come ti va adesso? Bien. Ok. Zab, lascia me con Elia. Zab, lascia me con Elia. Deconnect Elia. Ok Elia, com'on ça va? Ça va, bien. Adesso osserva energeticamente Sabrina, dimmi come la vedi. Maintenant tu dois observer energetiquement Sabrina et tu dois me dire comment tu la vois. Je la vois se tenir debout, droite, il y a une lumière orangée qui circule en elle, c'est son essence qu'elle a créée. La vedo in piedi, dritta, con una luce arancione dentro di lei che è la sua essence qu'elle a créée. Et j'ai l'impression qu'elle devient plus confiante en elle-même, plus adulte, si j'ai envie de dire, même si c'est pas le bon mot, il y a un ancrage qui n'était pas là au début. J'ai l'impression qu'elle devient plus consciente de se stessa, mi verrebbe de dire, plus adulte, anche se non è questo il suo nome, c'est una sorta di centratezza che s'est créata. Ok, dimmi se con queste nuove condizioni esoteriche, nel suo futuro, l'avedi sottomessa con il padre. Dis-moi, si avec cette nouvelle condizioni esoteriche, dans son futur, tu la vois soumise à son père? Non, ça ne dure pas. Je vois qu'elle l'a dû répondre et qu'elle ose beaucoup plus s'affirmer. Non, non durerà, vedo che non durerà tanto tempo e che sarà più ferma nei suoi confronti. E osservala nelle sue future relazioni sentimentali e nell'ambiente di lavoro, come la vedi? Observe là, pendant ses futures relazioni sentimentali e nell'ambiente di lavoro, come la vedi? Pareil, io la vois beaucoup più determinata, non la vedi come una victima o che la rabaisse, al contrario. Elle ha una force più impressionante per il rigore dei altri. La stessa va più determinata e non le piace essere vista come una victima. e, al contrario, ha più forza e più determinazione degli altri. Ok. Cosa altro? E dimmi se la vedi ingiustificatamente stanca. E dimmi se tu la vois fatiguée sans raison. Ok. Très bene. Sabuina e Elia, deconnect de tu e di tutti. De connec-toi, deconnect-vo. De connec-te-vo, deconnect-vo. De connec-te-vo, deconnect-vo. Ok, adesso il vostro corpo si sta risvegliando. Il corpo si fa sempre più leggero. Il corpo si fa sempre più leggero. Più forte. Più forte. Ma soprattutto senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Ma soprattutto senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Abre l'occhio. Obre gli occhi. Cosa va Sabuina? Bien. Noti una differenza tra il prima e il pre-sessione e il poste. Est-ce que tu aperçois des différences entre avant, la session et la session? Là, je me sens... Dettendue. Mi sento distesa? Uh-huh. Je me sens bien. Mi sento bene. Ok. Elia, comment ça va? Ça va bien. Sabuina, tu vuoi che si pubblica la session? Est-ce que tu veux publier la session? Est-ce que je veux quoi? Publier la session. Oui, je veux bien. Oui. Ok. Clude la registrazione. N'est-ce que tu vienes in linea? Reste là, je ferme la registrazione. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.